Rihanna, alle Barbados, la via dove è nata diventa Rihanna Drive La via dove è nata Rihanna, a Bridgetown, starebbe per cambiare nome secondo il volere del Ministero del Turismo. Diamo il benvenuto a Rihanna Drive, un omaggio alla carriera e al successo dell'amatissima stella della musica. L'annuncio sarà dato ufficialmente il 30 novembre, nel corso delle celebrazioni del Barbados Independence Day. Rihanna Drive, una via tutta per lei. Rihanna Drive Nel comunicato ufficiale si legge tutta la gratitudine e il rispetto con cui Rihanna è tenuta nel suo paese di nascita, Bridgetown, il quale ha deciso di mettere il suo nome alla via dove è nata. Rihanna Drive nasce così, il governo delle Barbados si impegna a cambiare, nel giorno dell'indipendenza, il 30 novembre 2017, il nome della via Westbury New Road e DST. Rihanna Drive Rihanna è ferocemente orgogliosa del suo retaggio Bayan e ha sempre mantenuto un fortissimo legame con il suo paese dorigine, anche mentre la sua famiglia si trasferiva in America alla ricerca di migliori condizioni. . Solo pochi mesi fa, Rihanna ha preso parte ai festeggiamenti per il Cadouement Day, dove ha sfoggiato una parrucca turchese e un bichini di pietre preziose e piume decisamente sopra le righe. . Lei, che è stata scoperta nel 2003 dal produttore Evan Rogers e si è trasferita a New York nel 2005 per siglare un contratto di ferro con i De Fiamme dopo essersi esibita con gli EIZLA. Grade. Un successo cosmico. Rihanna è la prima artista Bayana al mondo ad aver vinto un premio Grammy, e possiede ancora una tenuta da 22 milioni di dollari sull'isola, nel celebre resort di lusso o nel San Dilan. Quando ripensa alle Barbados, Rihanna ha gli occhi pieni di luce e di gratitudine. Secondo lei è stata Bridget Oven a farle venire quella pelle dura necessaria a sopportare le costanti prese in giro riguardo il fatto che appartiene a due etnie differenti. . Il mio comportamento, il mio modo di fare e il mio carattere riflettono molto le mie origini, ha raccontato Rihanna a Litv, mi sono fatta la scorza nascendo lì, e ho dovuto imparare in fretta a farmi scorrere addosso quello che mi avrebbe invece ferita. Sin da quando ero giovanissima, mi prendevano in giro perché ero birazza. . È stato uno dei primi problemi che ho dovuto affrontare durante le scuole. Ma tutto quello che ho capito a casa mi ha aiutata a prepararmi per affrontare questo mondo. . Attualmente, la bella Rihanna si gode una relazione fortunatissima con il suo arabo multimiliardario, eppure bello, l'erede dell'impero Toyota Hassani Amel, ex fidanzato di Naomi Campbell. .